Non c'è pace per i sottoservizi all'Aquila. Dopo le polemiche tutte dal sapore politico dei giorni scorsi sull'opportunità o meno di sospendere il cantiere per favorire il rientro in centro storico di cittadini e commercianti arriva ora l'ipotesi dell'appalto truccato per la giudicazione del primo lotto dei lavori. Con l'accusa di turbativa tasta è stato chiesto infatti il rinvio a giudizio per sei persone tra tecnici e responsabili di ditte impegnate nella realizzazione dei cosiddetti tunnel intelligenti. Secondo le accuse formulate dal sostituto procuratore Stefano Gallo ci sarebbe stato un favoritismo della commissione aggiudicatrice dei lavori nei confronti dell'Ati che ha poi effettivamente ottenuto l'appalto. 33 milioni di euro solo per il primo lotto per la costruzione dei tunnel dove far passare cavi di rete e servizi nella città che sta rinascendo nel post-sisma. Si tratta dell'opera pubblica più complessa e costosa della ricostruzione post-terremoto ed è stata per questo subito messa sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti. La realizzazione dei tunnel è stata appaltata dalla Gran Sassoacqua alla società consortile Asse Centrale Scar composta dalla Ravennate Acmar e dagli Aquilani Taddei ed Edilfraer.